Quindi se esplode, non siamo contenti. Oddio, non volevo esplodere. Aspettaci! Dov'è la sua coda? Probabilmente quella là. Non trovo più la sua faccia. Dov'è il gigantone? Per favore, esplodi. Se mi tranne esplodi, ti do un pugno e ti vengo a uccidere. 3, 2, 1... Oddio! È esploso veramente! Non ci posso credere! Oddio, è esploso sul serio! Ho detto, ho detto, ho detto esplodi e l'esploso! Marco Mangone, che cazzo, me ne frega! Marco Mangone, sto pubblicità da merda! Santo iddio! Questo qua non è mio. Adesso mi impegno e gioco seriamente. Basta. Mi sono sfracasciato le palle. 40.000 al primo, santo Dio! 8.000 e il decimo. Forse 8.000 ci si arriva. Allora, intanto si inizia così. Poi si va più avanti, molto più avanti. E si parte non così. Ma così! No! Eh! Così, no! E sto bagaglio uguale a me è morto. Ma perché mi devono sempre morire? Cioè, mi devono far morire malamentissimo tutti. Cosa vogliono da male? Non li tocco, li lascio stare. Allora, andiamo. Allora, 27.000 al primo, 9.000 al decimo. 9.000. Ci si prova. Un po' di culo. Forse ci si arriva. C'è troppa gente, via. Via! No! Ma porca troia! Perché queste cazze delle cose? Che cosa mi si è chiusa la pagina? Allora, ragazzi. Qua. Stiamo messi male. Perché io non... Non ce la faccio giocare bene. O faccio lo stupido io, oppure proprio faccio schifo di sto gioco. Oh, quanta roba che c'è di dentro! E se la mangia tutta lui... Io non mangio questi. Madonna. Madonna. Madonna! Madonna, quanto sono me! Oddio! 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 Che cazzo mi ha mangiato io? Cosa ho mangiato? 3.000 punti di già tutto così sculoso. Abbiamo ucciso quello lì! E poi quello lì! Ragazzi! Quanta gente abbiamo ucciso? Adesso non dobbiamo morire, cazzo. Non dobbiamo morire, cazzo. Quanto sono? Dove siamo? Dove siamo? Non ci capisco più niente. Oh! Succedeva anche quello lì. Quanta gente ha mangiato? 30 in uno. Quanta roba! Tutta mia! Siamo ottavi! Siamo ottavi ragazzi! Tutto culo! Tutto culo! Tutto gran culo! Tutto un culo gigante! 10.000! Sesti! Che cazzo ho fatto? Spiegatemi. Ma cos'è? Merda! Ho avuto... Peggio che... Peggio che... No! Ah sì! Madonna! Adesso come ti... Sparco! Allora, sesti, ci rimaniamo, eh! Siamo sesti! Abbiamo raggiunto finalmente sta cazzo di classifica! Di merda! Via dai lag! Via dai lag! Oh! Finalmente! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Sesti! Ora il nostro obiettivo è salire fino al podio! Non ce la farò mai! Oh! Oh! Via che c'è il bordo qua! Andiamo via dal bordo che... Settimi! Non ci piace più la situazione! Uh! Uh! Se mi faccio mangiare da quelli piccoli quanto devo... Devo... Oh! Ma cos'è? Oh! Grande! Pallini! Mi piacciono i pallini! Porco! 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 Tutto mio qua! Tutto mio qui! Tutto mio! Vai a mangiarti la famiglia! Tutto mio! Tutto mio! 14.000! Siamo quindi... Sì! Grande! Ragazzi! Quanto siamo diventati gigantissimi! 15.000! Scappiamo via da queste cose! Via da tutto! Quanti! Siamo quarti ragazzi! Mi sono accorto solo ora! Madonna! Siamo giganti! Siamo giganti! Siamo diventati enormi! Terzi! Siamo sul padio! 15.000! Cazzo! 15.000! Non ce l'ho mai arrivato! Minchia! Oddio! Non ce l'ho mai arrivato a 15.000! Santo Dio! Ragazzi! Ragazzi! Non ce l'ho mai... Non la cara che mi incazzo come una madonna! Terzi ragazzi! Spero che muoia tanto secondo! Così io almeno me ne vado secondo e... Lasciamo spazio ai più grandi! Tipo come va! Oddio! Non sono... Non sono più una checchina! Adesso ho recuperato un po' di... Di fama! Sono un pochino più grande! Dei gran punticini! Ci fanno comodi! Voglio arrivare in classifica! Non so se è ticativo! Mi ha ucciso tre giganti di fila! Ma siamo matti! C'è una che... Oh! Qua c'è un altro! Se viene alla gara quanto... Quanto mi dispiace per la tua famiglia! Che te la uccido tutta! Qua siamo... Troppa gente! Sì ragazzi! Sì ragazzi! Oppure come stiamo ucciso! Oh! Ragà! Ragà! Cosa stiamo facendo? Via! Via! Via da qua! 17.000! Secondi! Ragazzi siamo secondi! Cazzo! Sì! Siamo secondi! Siamo secondi! Siamo secondi! 17.000! Quasi 18.000! Non c'ero mai arrivato così tanto! Oddio! Non c'ero mai arrivato a 18.000! Ok adesso il nostro obiettivo è arrivare primi ragazzi! Arrivare primi che... Adesso questo qua... No 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 no! Via! Via! Eh! Cosa pensi di farmi? Oh! Oh! Se morirevi quanto volevo? Via! 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 Via cazzo! Merda! Beh io su questi giochi qua quando sono a pericolo cerco in tutti i modi di salvarmi il culo ma poi quando muoio devo fare qualcosa di malamente brutto. Merda! Oh! Mortacci sua in culo! Chi era quello là? Il primo? Il terzo? Chi era? Chi era? Tentiamo la vita! Cazzo! Se mi uccideva! Quanto dovevo pisciarmi addosso! Lo andiamo a chiudere! Lo andiamo a chiudere! Oh ragazzi non voglio fare una cagata! Non voglio fare una cagata! Non voglio fare una cagata! Se mi uccide? Madonna la sua famiglia come... Deveva finire male! Ok siamo già terzi! Fa lo stesso! Minchia oh! Zii basta eh! Vai a sbattere che... Forse così godi! Un po'! Merda abbiamo... Siamo già... Madonna! Vabbè via! Stato di chi è sta coda? Non è mia mi sa! Di un altro! Ma sono tutte così! Non ci credo se... Non ci credo... Che peccato! Non mi lagga più da... Se mi laggava adesso! Vieni qua! Vieni qua bestiola! Bestiola! Oh merda! Bestiolacce! Allora vieni qua! Brucoide! Se mi uccidi... Se mi uccidi... Come devo farti male! Terzo siamo! Siamo di nuovo terzi! Si vede che sono morti quei cojoni là! Come ti devo fare male? Se mi uccidi... Ti devo fare malissimo! Ti inglobo! Ragazzi! Lo sto inglobando! Ma guarda! Lo uccide! Oddio! Oh madonna! L'ho ucciso! L'ho ucciso! 21.000! Manca poco che arriva primo! 21.000! Allora qua... Ehi quanti pallini? Pensa se il primo muore! Io divento primo e... E urlo... Di gioia! Allora... Stiamo sprecando un bel po' dei nostri pallini punti! Cioè dei... Dei box di così qua, i clicchi! Sentite qui! Vesti qui! Sarebbero andare a far veloci! Allora... Mi dispa tanto che quei quattro là sono morti! Dispa un casino! Ok qui giù! Questo coso! Qua c'è qualcosina! Allora... 22.000! Sarà un po' complicato raggiungerlo quel posto lì! Ne siamo secondi ragazzi! Ok! Oh! C'è il primo! E abbiamo incontrato il primo ragazzi! Qua c'è il primo ragazzi! E' un jako... Qua c'è il primo ragazzà! Ma c'è qu'è un piè? La... Qua c'è il primo ragazzi! Qua c'è il primo ragazzi! Ciao ragazzi, sono Frang50, spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un pollicione in su per il prossimo episodio di Sliderio Non ci arriverò mai più a questo punto di giocare perché non ce l'ho mai fatta Lasciate un commento e ci rivediamo Un saluto dal vostro Frang50